È un momento in cui la nostra diocesi ha chiesto la collaborazione dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Treviso, con il quale collabora, per avviare una formazione destinata a una platea più vasta. Nasce dunque dalla sinergia di intenti il percorso formativo al via dal 6 ottobre Pensa che Fede, che mette al centro il tema della relazione, sede delle lezioni, seminario gregoriano di Belluno, ma anche online. L'obiettivo deriva da quella che è la natura della teologia. La fede dà anche un pensiero, la fede permette al credente anche di farsi un giudizio sul mondo, sulla vita, sulle azioni, su quanto accade. Un giudizio il più possibile pensato. Una proposta aperta a tutti e ideata in particolare per chi si prende cura delle comunità parrocchiali o è impegnato in servizi di catechesi. Penso che sia un'esperienza di grande valore formativo e risponde tra l'altro a una richiesta di formazione che era emersa dai gruppi sinodali. Quindi coinvolgersi per arricchire la propria fede e la propria esperienza personale come credenti, pensanti, mi sembra un valore aggiunto straordinario. Già oltre una settantina gli iscritti anche da fuori provincia. Numero sorprendente, quasi entusiasmante perché non credevamo ai nostri occhi. Grazie.